se gli serve un posto per nascondersi mandali qui stammi bene ma guarda che bella coppietta come no siamo un po come la bella e la bestia e lincoln nella bella io sono amici ma tutti mi chiamano mj come è andato il viaggio l'ufficio dello sceriffo ci ha dato un bel benvenuto figli di puttana dopo l'incidente di ezekiel slim ha messo tutti in allert quando sei rientrato qualche mese fa ecco come sono tornato io lasciandoci un pezzo di stomaco un annetto fa una scheggia l'elicottero è stato colpito da un razzo io mi sono svegliato a terra con il rotore in mezzo alla pancia questo toglie il dolore porca vacca uno dei miei capolavori il tuo amico sbirro sa qualcosa sul fascicolo scomparso mickey sì ha detto che slim lo tiene ben protetto nella stazione e non è facile entrare uscire da lì già meno che non diventi invisibile quegli stronzi sono pronti a tutto allora è meglio andare di notte e provarci quando la maggior parte di loro è andata a casa lo penso anch'io slim è un vicido schifoso imprevedibile quindi verrò con te per tenere d'occhio la situazione ti aspetto fuori va bene adesso arrivo mj fa una telefonata al tuo amico poliziotto e degli di darsi malato no quel bastardo se l'è già battuta di solito a quest'ora la stazione dello sceriffo è semideserta strano che tu non sia andata di persona a rubarvi ci avevo pensato ma in fondo devi divertirti un po anche tu sei buona tranquillo io osserverò la situazione dall'alto qui vicino e ti darò una mano come posso è proprio qui bene prendi i documenti dove ci vediamo tornerò alla fattoria ok non perderlo ricordati che ci serve vivo lo faccio da una vita ho fatto una piccola modifica ora potrò parlarti attraverso l'auricolare quei porci in divisa ti spareranno a vista beh allora buona fortuna ricorda che ci sono degli ingressi ai lati e sul retro mettono sul tetto in posizione e ti vedo e una manciata di agenti intorno alla stazione che diavolo c'è sotto quel corpo hai toccato quell'auto ci sei salito lo sapevo prima di andartene prendi uno straccio e ripulisce per benino ogni qui hai posato le mani anche tutto il resto così ci risparmieremo tutti un bel po di casini non 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 Il tuo fratellino si è ammazzato Una cosa terribile Stamattina l'abbiamo trovato appesa a una cintura Pensavo che qualcuno fosse venuto da perci Ma come diamo la faccia per viviare quella cinta? Schifoso maiale del cazzo Farò finta di non aver sentito Ora vattene a casa, Daryl E dia ai tuoi amici tossici di non farti più vedere qui a Sinclair Parish Ci siamo capiti, Daryl? Sì Prima recuperi quei documenti Prima potremo portare via il culo da qui Hanno ucciso Jerry Quei porci hanno ammazzato Jerry Bisogna dirlo C'è nessuno laggiù? Perché devi rendere tutto così difficile, cazzo? Qualcuno vuole fare casino Forse dovevo andarci io Agente a terra! Agente a terra! Agente a terra! Agente a terra! Chi è che spara? È solo... Un piccolo... Un piccolo... È solo un camion! Ci devo mettere... Sì Ci sai fare con le parole Merda è alla stazione Sospettato di colore Individuato in zona Ci è sfuggito Che unions Mettila di giocare con quei coglioni Lincoln Lincón Lincón Mettila di giocare con quei coglioni 然onghi Que A presto! Ehi, hai qualche problema? Niente di cui preoccuparsi, ci vediamo da MJ Va bene, ma non portarti dietro gli sbirri Attento, arrivano un sacco di agenti dal cancello posteriore L'ho trovato! Tutti con lui! Che vogliamo fare con lui? Che voglio fare! Mi bencherò la propulsione A tutte le unità, furto con scasso alla stazione Sul posto è stato avvistato un robusto uomo di colore Che va considerato armato e pericoloso Fate in fretta, ordini dello Scheringford Grazie a tutti Ragazzi, ti ho persi di vista. L'imno ne sarà affatto felice. Mi servirebbe un altro mezzo. Ci penso io, ragazzo. La sto solo facendo scaldare. Ecco l'auto, capo. Grazie mille. La sto solo facendo scaldare. Mi stavo giusto chiedendo che fine avessi fatto. Non ti fidi di uno dell'Hallow? Sono solo stupita che tu non abbia fatto un casino. Dammi tempo. Non ti deluderò. Slim ha aggiunto degli appunti ed evidenziato dei nomi. Cazzo. Slim si è già dato da fare. Alcune di queste persone risultano scomparsi. Quindi probabilmente sono morte. Sai i nomi delle persone con cui abbiamo parlato? Fa un culo, ci siamo spaccati il culo per quasi un anno a mettere insieme i pezzi uno per uno. Se perdiamo tutto adesso manderemo... Noi non perderemo un bel niente. Sapevamo che quegli stronzi avrebbero reagito. Questa gente ha sacrificato la vita credendo nella nostra causa. Abbiamo ancora le foto e le deposizioni scritte. Non permetteremo a Slim di uscirne pulito. Quindi? Che facciamo ora? Ora chiamo i nomi di questa lista e dico loro di portarvi al culo da Sinclair. Dopodiché... Ci occuperemo di Slim e di quei figli di puttana dei suoi amici. Rincol, hai un secondo? Mi serve una mano per portare dentro il fertilizzante. Ficcate che mi piace. Grazie a tutti.